Una fusione chiamata Megatron Sonic Solution Produzione Aerteo Aerteo Stinky Questa che stiamo ascoltando è la produzione di Aerteo A-I-R-T-E-O A-I-R-T-E-O Gli assassini della console si chiamano Aerteo Benichi Niki Arteo A-I-R-T-E-O 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 Le mani spera in feo! 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 Le mani al cielo! Le mani al cielo! Perché chi non parte le mani porta una divisa! Le mani spera in feo! 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 Ai il teo assassino!